Demolito questa mattina il ponte privato sul Ponte Rosso, conosciuto come Ponte Righi, che fu tra le cause dell'alluvione dell'ottobre 2013 e su cui la scorsa settimana è arrivata la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Il Collegio ha infatti respinto il ricorso dei proprietari ritenendo che sussistano i presupposti di necessità ed urgenza per l'adozione di provvedimenti extra ordinem finalizzati alla tutela della pubblica incolumità e della sicurezza urbana. La pericolosità del ponte era stata accertata direttamente dalla provincia di Firenze, tramite la polizia idraulica, a seguito della ricognizione effettuata nelle ore immediatamente successive all'alluvione. Allora si rilevò come la presenza del ponte avesse costituito impedimento a regolare il deflusso delle acque, provocando l'esondazione e il conseguente allagamento delle aree adiacenti. Da qui l'inizio della cherel giudiziaria finita sulla scrivania del Tribunale, che nel settembre 2014, dopo averla regettata per tre volte, ha colto la richiesta di sospensiva presentata dai proprietari del ponte, salvo poi respingerla con una sentenza inoppugnabile arrivata la scorsa settimana. Infine, oggi l'epilogo, con la Ruspa entrata finalmente in azione per demolire il ponte. Finalmente un segnale positivo, una battaglia che abbiamo vinto perché credo sia questa amministrazione che quella precedente abbiano lottato molto perché questo risultato si fosse portato a casa e oggi finalmente vediamo il segno di tutto questo, segno che appunto questa battaglia era quella giusta. Ovviamente però non perdiamo tempo perché questo era un tassello importante per la messa in sicurezza di tutto l'abitato dello Stecco e della parte anche di San Biagio, ma non è finita qui perché ovviamente sul torrente Ponte Rosso dovremo ancora fare un'opera vera e propria di messa in sicurezza idraulica complessiva e come sapete è già in corso di elaborazione e il progetto verrà presentato non tra molto e si tratta di 3 milioni e mezzo di investimenti proprio sul torrente Ponte Rosso per realizzare opere di messa in sicurezza idraulica vera e propria. Proprio in queste ore il Comune di Figlina Incisa sta definendo il cronoprogramma delle opere di mitigazione che rientrano nelle procedure semplificate che la Regione Toscana ha adottato sulla base del Decreto Sblocca Italia, varato con l'obiettivo di agevolare anche gli interventi di protezione civile e sicurezza idrogeologica. Al Comune spetterà quindi la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché la realizzazione delle opere per la mitigazione del rischio idraulico secondo una copertura dei costi che vede con partecipare Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Figlina Incisa.